Musica Bella ragazzi qui Fox e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo sul mio smartphone e stiamo giocando a un simpatico gioco che si chiama Octagon Nel quale noi impressioneremo un ottagon appunto come dice la parola E dovremo percorrere dei tortuosissimi percorsi Allora vedete ci siamo su questo percorso, su questo grande ottagono Dobbiamo evitare gli istacoli e saltare i ponti e evitare di cadere in gioco Come ho fatto io adesso No 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 Allora andiamo di qua No, sono un idiota No, qui Facciamo così Facciamo così che andiamo, diciamo, saltiamo Non abbiamo fatto il posto del percorso Destra Sinistra Destra E siamo arrivati al trequattro Un livello, anzi livello zero Ecco qua Uno, due, tre Ok Destra Poi Sinistra Sinistra Destra 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 Sinistra Termistra Sangistra Siamo arrivati al trequattro E classico E in create un world facciamo il nostro terzo livello per oggi se colpiamo queste barriere non è che cadiamo ma tremano il video e quindi noi siamo un poco ci stiamo andando più veloci allora il percorso è sempre uguale però ne volendo possiamo cliccare qui e il percorso viene cambiato casualmente diciamo il percorso viene un po modificato in questo caso lo modifichiamo perché quello non mi piace questo mi piace ancora di meno quindi adesso lo modifichiamo di nuovo salta 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 e e e e destra sinistra no dopo presto mannaggia scusate vi sentiamo un po' la no no però usando la fotografica all'interno del cellulare quindi ce l'ho in mano quindi sostanzialmente si muove come non muovo il telefono vi devo comprare questo programma adesso c'è la questione che lo aiuta di questa applicazione per registrare è molto bella quindi me la devo che sia successo la devo comprare perché ogni tanto mi blocca la registrazione perché non posso non posso operare un certo una certa durata in alto a destra che io censurato in qualche modo che non voglio farvi dire non voglio fare il viso se mi danno 800 mila euro la faccio in via però cado giù non faccio pubblicità ma cado giù ma lei cosa sto facendo concettazione su 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 io ho tremuto però dai ragazzi ricordo questo ricordo facciamo se mi è arrivato qua vedo la fine vedo la fine vedo la fine vedo la fine non è possibile non è possibile è un 89,59 per cento è strettissimo il passaggio ma lo vedi lo vedi molto stretto è colpa mia è colpa mia di non vado molto stretto i passaggi guardalo è strettissimo non ci passo potete arrivare a utilizzare questo penino qua vediamo se magari si può ciò che c'è il telefono non è meglio non è meglio non mi ritrovo però sto vincendo se di nuovo non mi sta non so perché non me lo chiedete sono bloccato guarda è ancora più stretto che mi sono salvato è l'ultimo è l'ultimo